Un incontro, Sandro Tonali, bambina di destra, pallone che spiova in aria, il colpo di testa, l'ha rispinta, il gol! Il vantaggio del Milan con la ribattuta in porta su azione d'angolo a colpire, a mettere in porta per il Milan è stato il giocatore Giroud appostato sul secondo palo, quelli del Torino stanno invitando l'arbitro a verificare la posizione di Giroud ma l'impressione è che il francese campione del mondo partisse da dietro e questo è un classico schema, azione d'angolo, sfonda di testa, Giroud sul secondo palo piatto di sinistro e gol al tredicesimo in Milan e in vantaggio con Olivier Giroud e gol importantissimo perché finora, senza strafare per carità, la partita Dalla strana a Brecalo, dalla tre quarti qualcuno per evitare di rimanere imbottigliato nel traffico, sta lasciando le tribune del Meazza c'è anche Milinkovic-Savic in aria di rigore, se ne gioca tutte il Torino, tutto il Milan dietro ma c'è anche Milinkovic-Savic che è alto 2,02 metri e quindi insomma la sua presenza non passa inosservata, ancora Brecalo che va alla battuta, il tocco corto ancora per Brecalo Brecalo la mette in aria, vanno tutti a vuoto, Tatarussanus la vede sbucare lì e regala un angolo, regala un angolo al Torino perché avrebbe pure potuto lasciarla scorrere, non erano i nepali però è andato un po' nel panico, ha regalato un angolo al Torino e la quinto contro i due battuti dalla Milan, siamo vicinissimi al 94esimo, Milinkovic-Savic ovviamente resta lì, palla in aria colpo di testa, tentato, mischia, non va a tirare, non tira il Torino dentro l'aria piccola ancora Torino, ma che occasione ha avuto il Torino, un pallone deviato proprio da Milinkovic-Savic è arrivato sul pallone un giocatore del Torino, non abbiamo visto bene chi, non se l'è sentita di tirare, ha provato uno a controllo certo non era facile, però ecco lì Beppe Dossena, Giroud la mette in porta il giocatore del Torino adesso mi pare fosse Pobega, non so se ho visto bene, non è andato a tirare ma questa è una grossa occasione che il Torino ha mancato assolutamente, quella palla pericolosamente davanti nell'area piccola fortunatamente per il Milan nessuno ci ha messo il piedone per buttarla in porta e ha rischiato tanto, però la mia sensazione è che il Milan sia molto stanco quasi esausto perché poco, poco ha fatto col subito ma poi ha dovuto ha dovuto subire il Torino e non ha avuto nessun tipo di reazione intanto il recupero è stato allungato, credo ormai di un minuto perché siamo quasi al 95esimo cerca Leao di tenere fuori il pallone e arriva il triplice fischio dell'arbitro per il Milan si tratta della sesta vittoria consecutiva in campionato che lo porta a quota 28 e quindi si riporta alla comando da solo in attesa del Napoli che giocherà giovedì però come dicevamo con Beppe Dossena al quale affido il commento finale non è stato certo il miglior Milan non è stato certo il Milan migliore ho la sensazione che sia molto stanco buona la gara del Torino poco incisivo però tutto il valore di questa squadra